Basta con le proroghe, l'ombra della restituzione delle tasse sospese nell'immediato post-sisme e ritenuti aiuti di Stato deve essere risolta alla radice, con provvedimenti che soltanto l'Unione Europea può approvare. Con Findustria, Ance e Api dell'Aquila, le tre associazioni di categoria che rappresentano i 350 piccoli e medi imprenditori a cui l'Europa ha chiesto indietro circa 80 milioni di euro di tasse, fanno fronte comune e tornano a chiedere alla politica, a un mese esatto dalle europee, di agire e concretizzare le promesse fatte negli ultimi tre anni. La proroga della scadenza dei termini per restituire le somme scade a giugno. Ci sono dunque due mesi di tempo per proporre soluzioni che però si fanno sempre più lontane, mentre per i piccoli imprenditori è impossibile impegnare risorse in investimenti. Resta l'allarme inoltre per il rallentamento della ricostruzione, con solo i 10 milioni di euro dell'ultimo elenco di contributi pubblicato dal Comune dell'Aquila che potrà effettivamente tramutarsi in cantieri. Oggi il segnale è che tutte e tre categorie vogliono a breve tempo avere una risposta riguardo e la proroga, ma nello stesso tempo capire se la proroga potrebbe non essere la sola o anche necessaria qualora in questi prossimi 15 giorni ci fosse un'azione politica volta a far sì che questo dossier che sappiamo essere stato preparato a Roma dai tecnici del Ministero potesse essere, riguardo appunto il De Minimis, almeno alzare la quota a 500 mila euro del De Minimis, poter essere veramente approvato dalla Commissione anche prima delle elezioni europee. Allora queste cose chi le fa? Noi chiediamo alla politica di unirsi totalmente su questo. Chiediamo una proroga almeno fino a fine anno perché altrimenti tutte le istituzioni europee non saranno disponibili prima di novembre, quindi serve assolutamente una proroga. Però non è più possibile andare avanti con le proroghe, sicuramente ci sarà bisogno di mettere un punto, dobbiamo avere certezze, se vogliono richiedere i soldi lo facciano, noi siamo pronti alla battaglia legale o altrimenti bisogna decidere qualcosa.